Salve ragazzi, in questa nuova puntata della rubrica estensioni per Chrome vi mostreremo un'estensione che vi consentirà di inviare tramite email link di articoli o siti web ai vostri amici in modo facile e veloce. L'estensione è sfrutta ovviamente il servizio Gmail e per prima cosa quindi colleghiamo a questo link che trovate anche all'interno dell'articolo linkato nella descrizione del video e quindi clicchiamo sul tasto aggiungi. Quindi clicchiamo nuovamente aggiungi ed ecco fatto. Vi comparirà quindi un nuovo pulsante tramite il quale potrete inviare rapidamente link ai vostri amici. A questo punto testiamo l'estensione collegandoci al nostro sito WeTech e clicchiamo sul pulsante che è stato aggiunto. Si aprirà quindi una nuova finestra che ci collegherà al servizio Gmail, se non avete effettuato l'accesso vi chiederà di farlo e quindi verrà in automatico messo come oggetto il titolo della pagina che vogliamo condividere e nel corpo del testo ci comparirà il link. Quindi basta inserire a chi vogliamo inviare l'email e quindi il gioco è fatto. Altra interessante funzionalità è che se ad esempio vogliamo condividere una parte dell'articolo, ad esempio selezioniamo la parte iniziale di questo articolo e poi clicchiamo sul tasto, come potete vedere verrà oltre al link inserito anche quella parte di testo selezionata. Un servizio sicuramente utile che vi permetterà in modo rapido e veloce di condividere con i vostri amici le pagine web che più vi interessano. E con questa nostra video guida è terminata, se vi è piaciuto mettete un bel mi piace e iscrivetevi al nostro canale e continuate a seguirci sul sito www.widroteotec.eu. Alla prossima!